Tu sei Angelo La Palma, vero? Non avere paura. Sappiamo che sei un uomo onesto e innocente. Sai perché sei qui? Per vendicare il vero principe della morra. Il vero principe della morra. Ma su chi vuoi compiere la tua vendetta? Sull'usurpatore. Io ero a servizio di Don Emiliano, il vero principe della morra, quando suo fratello Armando lo fece uccidere. Ne ho le prove. Per togliermi di mezzo ha inventato delle false accuse e ha fatto di me un condannato a vita. Ma qualcuno mi ha aiutato a scappare. E io ora sono tornato per vendicarmi. La vendetta chiude un conto, ma ne apre subito dopo un altro. Noi non parliamo mai di vendetta, ma solo della nostra giustizia. È chiaro? Che succede? Gli sbirri sono tornati. Presto, andatevene. Le guardie sono tornate con il permesso dell'arcivescovo. Va bene, falli entrare. Tu vieni con me.